di 500 euro su una carta prepagata a una donna straniera e un buco di almeno 24 ore. Sono solo alcuni dei misteri che avvolgono la morte di Marco Conforti, trovato cadavere nel bagagliaio del suo SUV domenica, in tarda serata, grazie ad un'app sul cellulare dell'imprenditore, ormai spento, che segnalava l'ultimo spostamento proprio in via Rovigo. La polizia trova il corpo senza vita, accanto a lui il telefono e le chiavi dell'auto. Ma come mai si trovava lì? La zona è sorvegliata da diverse telecamere, ci è arrivato da solo o qualcuno lo ha portato in quel punto per sbarazzarsi di lui. Solo l'autopsia, eseguita oggi, potrà dare delle risposte e potrà chiarire se il re delle autoscuole sia stato assassinato. L'unico elemento certo finora è che Conforti era ancora vivo nella notte fra il 23 e il 24 maggio. Al mattino aveva accompagnato la figlia maggiore Carola a scuola, poi era andato al mare a Varazza in Niguria ed era tornato a casa verso le 18.30. In serata ha partecipato a una cena con altri quattro amici e poi sarebbe andato in un nightclub. Proprio in quelle ore avrebbe eseguito il bonifico la donna. Da quel momento di lui si sono perse le tracce e il suo telefono ha squillato a vuoto fino a scaricarsi.